Potrebbe aver causato danni irreparabili alla sua mano. Avete presente gli attivisti che si straiano in mezzo alle strade per bloccare il traffico? Questo si è spinto troppo oltre. Ha utilizzato un mix di colle industriali impossibili da rimuovere una volta applicate e si è letteralmente saldato la mano al suolo per poter impedire agli agenti di polizia di poterlo rimuovere forzatamente dalla strada. Dopo molteplici tentativi da parte della polizia tedesca di liberare l'uomo, sono dovuti ricorrere a tagliare un pezzo d'asfalto intorno alla mano dell'uomo per poterlo staccare dal pavimento, per poi lasciarlo andare con il pezzo di strada ancora attaccato alla mano. I medici hanno detto che è impossibile rimuovere il materiale attaccato, perché qualsiasi agente chimico scioglierebbe prima la sua pelle, e poi l'asfalto. L'uomo dovrà attendere che ricresca un nuovo strato di pelle per potersi staccare da quello al momento incollato.